Salve cari Youtubers, oggi per Labyrinth Contest Salve cari Youtubers, oggi vi presento questo titolo creato per Labyrinth Contest 2015 Questo è il re degli avventurieri e come sempre la nostra parola d'ordine è Hnet We Trust, è un gioco creato con RPG Maker VX Ace e iniziamo ora Ogni anno nella lontana città di Remigio si tiene un torneo, da tutto il mondo si fanno Avanti gli atleti pronti a conquistare l'alloro o qualcosa, la gara è una corsa D'ostacoli attraverso l'arena appositamente creata dai migliori maghi della città Chissà chi sarà talmente coraggioso da cimentarsi in questa impresa frirandosi del titolo di Re degli avventurieri Buon pomeriggio a tutti e ben sintonizzati Sono Marco Meccia e qui accanto a me, in veste dei commentatori, c'è Mauro Sadreani Non ci credo Grazie Marco e buon pomeriggio, è un piacere per me essere qui a commentare questo incontro No, non ci posso credere, grande, grande creatore del gioco che ha messo questa voce Ok Ok Grande Grande Oh Che ho fatta? No Non posso Cazzo No, però il gioco è bene No Paccato che Non so cosa devo fare No Questa no Cazzo Che ho fatta? Uno ci ho fatta a tirarlo, a tirare una... Prendi 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 aldo St역 Cazzo No Questa è bene Inizia la... Ha tenuto i nervi saldi in modo incommiabile Non riesce a crederci Ha usato tutta la sua abilità oggi e potrebbe colpire ancora La situazione si sta facendo emozionante adesso Che incubo! Ha tenuto i nervi saldi in modo incommiabile Che incubo! Ha tenuto i nervi saldi in modo incommiabile Ma... La situazione si sta facendo emozionante adesso Oh mamma... Mi sa che... Ho fatto... No... Dove essere veloce Ha tenuto i nervi saldi in modo incommiabile Sì 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 ce l'ho fatto Grande! È finita! Grande! Ce l'ho fatta Il re degli avventurieri Creato per Casual Per Labyrinth Contest Uno di RPG2S Tecronica Marco Civoli In me c'è In me c'è Musica sul carino Il primo 2015 Di RPG2S Quindi per oggi D'Arkanan E' tutto Vi invito per un altro video E ancora una volta ricordatevi Che In that We trust We trust L'epidast L'epidast A L'epidast Grazie a tutti.